Questo è uno spin-off! Questo è uno spin-off! Questo è uno spin-off! Pepepepepe! Niente, sto ricoglionando! Questo è uno spin-off! Cioè, una roba che c'entra sempre col mondo del film originale, ma che non parla esattamente dei protagonisti. In questo caso, in Barbie e Mary Posa, Elina racconta la storia di una fata farfalla che vive ai confini di Feritopia, e che si chiama... Farfalla! Ma... in spagnolo. Ma andate a cagare! Mary Posa è una di quelle fate che si considera strana perché io non appartengo a questo posto! Giusto per darsi in tono! Le vive a Flutterfield, un'isola in cui di notte le fate venivano cacciate da sti così brutti mangiafate chiamati... Skated! 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 Questi! Almeno fino a quando la regina Marabella non decise di rendere l'isola una Las Vegas per fate mettendo luce ad ogni dove, cosa che questi Skleifes rifuggono, e che sarebbero rimasti accese fino a quando lei sarebbe rimasta in vita. Va bene, tieniti pure i tuoi segreti! Fino a una certa, no? Prima o poi anche lei farà vecchia e andrà al camposanto delle fate, a quel punto saranno cazzi per tutti! Insomma, Mariposa lavora come assistente insieme alla migliore amica, Willa, che non è Dandelion 3.0 e poi vi spiego il perché. Dalle sorellastre di Cenerentola, versione fatata, Raina e Raila, petulanti, fastidiose, frivole, belle persone, insomma, che vogliono andare al ballo reale di quella sera per conquistarsi il principe Carlos. Alla fine Mariposa la Cenerentola della situation, con la bella differenza che lei al ballo non ci andrebbe manco pagata, però hanno in comune che, oppor Fabacco, scontra incontra il principe che ovviamente non riconosce. I due si scambiano due chiacchiere, tipo letteralmente. Leggiamo lo stesso libro! Wow! Abbiamo così tante cose in comune, talmente tante da non ricordarmele. E ciao! E il giorno dopo Mariposa lo ritrova alla finestra di casa sua che la guarda mentre dorme. Eccala! Vatta a fidà! No! In realtà lui l'ha cercata, non so come abbia trovato la casa, si sarà messo a spiare ogni finestra, vabbè, per rivelare che lui è il principe e che i soldati lo stanno cercando per metterlo al sicuro, visto che la madre, la regina Marabella, è stata avvelenata da un veleno molto molto raro e lui da buon figlioletto vuole cercare l'antidoto, ma sapendo di non essere lui il protagonista e che sarà sicuramente acciuffato perché così deve andare la trama, quello lascia a Mariposa una mappa incomprensibile per andare a cercare sto antidoto. Ma sì, fidiamoci di una bella ragazza incontrata la sera prima. Mariposa ha tutte le insicurezze di rito prima di partire, ma tranquilla, arrivano Raina e Raila a darle una mano, pronte per prendersi la gloria al loro ritorno. Ma scusa, ma pure tu sei un cazzo di genio, il principe lascia a te, a te, sta mappa e tu? Oh, guardate un po' che mi ha dato il principe, chissà cosa mai dovrei farci. Le tre compagne pensano di fare una bella passeggiata di salute al di fuori di Flutterfield in giornata. Ma che simpatiche! E infatti, devono scappare male dagli scherzi alzai, scoprendo poi che la mappa indica una bella freccia gigante fatta come una costellazione del Sagittario della serie. Antidoto da questa parte, prego. Mariposa, che ad ora il Sagittario per qualche motivo a noi sconosciuto sarà forse perché è l'unica costellazione che conosce, si illumina a bestia. Il Sagittario! Tesoro mio, ho capito, ma è una costellazione. Il Sagittario ci guiderà! Il Sagittario è figo! Nel frammento, Willa ha letto la lettera di addio a rivederci quello che vuoi di Mariposa e siccome non vuole essere come le amiche spalle inutili delle protagoniste, corre verso il palazzo in versione Mission Impossible per liberare il principe. Oh, brava Willa! I due magicamente scoprono che a dare il veleno a Marabella è il maggior... No, Hanna, l'assistente malefica della regina che vuole prendere per forza il trono anche se la cosa non ha molto senso perché se muore la regina il regno va al figlio quindi non certo a lei ma non mi sembra che abbia mai provato ad avvelenare Carlos. Hanna, poi, è alleata con sti mostri schifosi promettendo loro che li lascerà cacciare le fate e farfalle una volta salita al trono. È sempre la stessa cosa vedevo di ma se muoiono tutti su cosa cavolo regni! Torniamo a Mariposa e Company che incontrano il tipico pupazzetto di compagnia di ogni Barbie. Pareva troppo strano che a Mariposa non ce ne fosse uno. Zinzi, un coniglio volante molto normale della razza dei... conigli volanti, suppongo. Passando per delle sirene gemelle antipatiche che le mettono alla prova Raila e Raina capiscono come si sono sempre comportate cioè na merda e il gruppetto entra nella caverna dei riflessi dove una mini 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 fatina incazzosissima dice loro che solo una può entrare per ricevere l'antidoto. Quindi a intervalli regolari Zinzi, Raila e infine Raina decidono di restare indietro e pongono fiducia in Mariposa. La prova finale è scegliere una delle stelle in cielo. Una di essere potrebbe potenzialmente essere l'antidoto però avrà solo una possibilità di scelta. Ma sei veramente stronza pure tu? Ma ci sono miliardi di stelle in cielo bestia! Però? Beh, ovviamente Mariposa azzecca perché? Perché il Sagittario ci guiderà! Guarda tesoro mio esistono altre costellazioni tipo che ne so Lofiuco il Sagittario con la sua freccia sembra indicare la stella più piccola e indisparte nel cielo. La morale comunque che nonostante quella sembri una stellina inutile proprio per questo fa comunque parte del firmamento quindi niente è inutile o sbagliato a questo mondo ma l'insegna a me e via sarà vero e più perché è obbligatorio le ali di Mariposa diventano enormi e splendenti non avevano più fantasia per un cambio d'abito e ora veloci come il vento verso Flutterfield dove le luci ormai sono quasi del tutto spette e Marabella sta andando al campo santo ma ecco che arrivano Will e Carlos che con tutto l'osercito e sfere luminose vanno a far culo a sti mostriciattoli in avvicinamento mentre Enna viene scoperta Mariposa è pronta per dare il fiore a Marabella glielo avvicina alla bocca eeeh niente succede beh magari dovevi farle un infuso come tutte le persone normali arriva Enna e le strappa il fiore beh che vedevo lì condannati condannatissimi e invece no perché Marabella si ripiglia a cazzo di cane le luci si accendono e gli schicchic sono costretti a fuggire insieme a Enna ma perché la lasciate andare via lo sapete vero che può ritornare no eh la vuoi lasciare andare per forza va bene contenti voi tutto si risolve e Marabella ringrazia tutti coloro che hanno aiutato nell'impresa con coroncine di fiori allora scusa dopo aver salvato la pellaccia a tutto il cazzo di regno la coroncina di fiori è una cosa veramente fighissima tutto si conclude con balli e festeggiamenti alla quale Mariposa non può scappare perché sono tutti dedicati a lei ma porca conclusione ma lo sai che ora mi sento di appartenere a questo posto ma va voleva solo un po' d'attenzione fine alla prossima con Barbie e il castello di diamanti